Il contributo della provincia di Salerno alla causa nazionale è un contributo importante perché mi pare che la provincia di Salerno, a cominciare dal comune capoluogo, esprima delle esperienze significative dal punto di vista del governo locale, in particolare dove governa il PD ovviamente, e anche credo con un rinnovato modo di intendere il partito. C'è un gruppo dirigente giovane che intende dedicarsi al partito per i prossimi anni, che non considera il partito un trampolino di lancio e quindi noi ci candidiamo a dare un contributo di idee innanzitutto, ma poi soprattutto un contributo di consenso. Alle ultime regionali in provincia di Salerno, grazie alla candidatura di De Luca, il centro-sinistra del PD hanno avuto delle percentuali straordinarie e noi pensiamo di poter confermare a maggior ragione se dovessero intervenire delle modifiche dei sistemi elettorali che premiano il territorio. Io penso che noi dobbiamo lottare per cambiare il sistema elettorale e Salerno si farà sentire. I candidati alle prossime elezioni devono essere espressione del territorio, questa è l'autonomia di cui parlavo prima.